Tempo di previsioni, aveva previsto anche un grande successo per Gaemon, un successone, Meteo Pep, ieri per Rose Viola. Era un grande evento di Gaemon, che cantava sempre Sordi, Sordi, Sordi. No, quello era Mammo, vabbè, non fa niente. Vabbè, Mammo, vabbè. Comunque, Rose, Rose distese sulle lenzuola, che fa così, Rose distese sulle lenzuola. E viva Vellino, forza Vellino. Viva Vellino. Allora, intanto ringraziamo anche Vincenzo per la collaborazione, bentrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno amici di Vellino. Che tempo farà per questo weekend? Illuminaci un po', colonnello. Per questo weekend provvediamo che il tempo sia bello, perché abbiamo una nuova ondata di corda. E quindi anche in bici si può andare, vediamo le persone ad Vellino che passeggiano, camminano. Quindi abbiamo un'altra ondata, dobbiamo fare conto che è l'ultima ondata di corda, che interessa tutta l'Italia, sia il centro-sud che tutto il centro-nord. Poi prossimamente, penso che va cambiando il tempo, arriverà un'aria fresca proveniente dal nord d'Europa. Quindi l'ultimo sole, l'ultima ondata di caldo. Vincenzo, posso chiederti, oh sole mio, e qui ci sta tutta, un accenno, un breve accenno di oh sole mio. Voglio farti un'altra cosa. Ok, vai. Grandissimo Vincenzo, grazie. Ma un accenno di oh sole mio ce lo fai tu, Peppino, così chiudiamo con questa sigla le previsioni del weekend. Oh sole mio. Io direi a tutta la redazione di fare delle belle vacanze collegate da qui, da Piazza Trinità, a voi lo studio, linea a voi. Ciao a tutti, buon weekend, viva l'Irpinia, viva Avellino. Ciao, ciao. 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 Ciao.